Prosegue il processo di vendita delle quattro good bank. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di acquisto non vincolanti da parte di soggetti, altri istituti o fondi abilitati. Per Nuova Banca Etruria e le altre trenate dalle ceneri dei vecchi istituti sono passaggi fondamentali per capire il futuro. Dalla sede centrale a Roma fanno sapere che in linea con le aspettative circa metà di coloro che avevano manifestato iniziale interesse private equity in prevalenza banche e compagnie assicurative hanno sottoposto una propria offerta non vincolante. Tra di essi saranno selezionati a breve i soggetti ammessi alla prossima fase che si concluderà probabilmente nel mese di luglio. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, sul tavolo di Roberto Nicastro sarebbero arrivate una decina di offerte da parte di fondi di private equity straniere come Apollo, Fortis, Canterbridge, Anacap, mentre si sarebbero sfilate le banche italiane che in un primo momento potevano sembrare interessate. Adesso scatterà la selezione e l'ammissione alla due diligence dopo la quale si passerà alle offerte vincolanti. Da ricordare che secondo l'Unione Europea le banche vanno cedute entro il 30 settembre. È un passaggio delicatissimo per il sistema economico, per i dipendenti delle banche stesse e per il credito concesso alle PMI a retine.